Ah Gru Temo che il mio piano per l'alimentazione elettrica del razzo Fosse un filo inadeguato No, era un bel piano Non è colpa mia se non sei stato capace di trovarmi una prolunga sufficiente a coprire 400.000 chilometri Quindi, vabbè Piano di riserva C'era un criminale chiamato Nick Eon che era un esperto di insegne al Neon Sgraffignò tutte quelle di Las Vegas nell'82 E installò un piccolo reattore nucleare nel cavo della banca Per alimentare la sua collezione Dovrebbe essere perfetto per i nostri piani Ma che ci sarò da Nick Eon Oh, non è più in circolazione Avvelenamento da radiazioni Yikes In ogni caso Il reattore ci sta aspettando nella banca del male Entra e riportalo qui Il reattore ci sta aspettando nella banca del male Tutto quell'impegno da presa Tutto quell'impegno da presa Tutta vita da criminale da tanto Tutto走 Tutto Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Grazie a quello che mi serve Volo di precisione, mappola Mio Sì Sì Questa roba sta fluttuando in giro Ah, c'è solo un biglietto Grazie a quello che mi serve Volevi, non stanno andando bene Questo aiuterà Ah, c'è solo un biglietto Io ho TRIONFATO Rapina o burla Da più parti della zona ripresa Sono giunte notizie di un furto Di quello che sembra essere un reattore nucleare E di un'accesa battaglia aerea Nei cieli della nostra città La prima segnalazione di questa storia Incredibile è arrivata in prossimità Degli uffici di questo edificio Dove recentemente è stata denunciata Una rapina Non di una banca L'inquinamento delle falde acquifere Sta facendo impazzire la popolazione? Di nuovo? Oppure la città si trova sotto assedio Di uno spregevole criminale Che vuole Distruggerci tutti Rimanete sintonizzati Per conoscere gli sviluppi Di questa storia agghiacciante Ora ci colleghiamo con Betsy Callan Che è in serbo qualche succulenta ricetta Che non ruvinerà le vostre finanze Betsy Che non ruvinerà le vostre finanze 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 Grazie a tutti.